Francesco Carbone, commissario di Fratelli d'Italia a Samarate, la prima reazione dopo i risultati? La reazione sicuramente un po' inaspettata perché fondamentalmente io mi battevo per vincere il primo turno, il ballottaggio, con gli apparentamenti che ci sono stati, era una partita davvero dura e difficile, però devo dire con tutta soddisfazione che è meglio morire in piedi che vivere in ginocchio. Una coalizione nata come la nostra, fin dal principio, con un programma elettorale unico, basato su delle linee di principio che andavano in accordo con i tre partiti di centro-destra, era sicuramente la strada giusta per noi da percorre in solitaria. Era una partita davvero difficile, sono soddisfatto del lavoro che ho svolto qui come commissario per Fratelli d'Italia perché siamo partiti dal 3,52%, siamo arrivati con un partito ai suoi massimi storici, però anche a livello di amministrazione, a livello di consiglio comunale siamo arrivati a un 18% con probabilmente tre consiglieri comunali che verranno ai banchi dell'opposizione e l'opposizione insomma non fa mai male perché per un partito comunque in consolidamento come Fratelli d'Italia sicuramente porterà del bene e del beneficio per il prossimo futuro. Grazie.